ci troviamo di nuovo all'hp, l'ovale più grande di mondo come il solito lito di pinta stavolta al posto della solita insalata di pibuster abbiamo scelto di prendere un altro spinto non so se vi porto, vi chiedete, comunque se è un po' un spinto con crauti, blu e patate era un blu crauti? no, con crauti e patate e pure e pure venite tutti quanti a capire di Mona si spende poco e si gode tanto come dice un certo poce